Ben tornati cari amici della pillola dell'analisi settimanale, siete sempre in compagnia di Angelo Simeone e come al solito vi invito a dare un'occhiata al sito www.basianalisitecnica.it dove insieme con Simone Dosoli gestiamo il nostro workshop, la nostra Academy, con cui spieghiamo i mercati finanziari, li analizziamo e che a settembre riprenderà le sue lezioni. Vi ricordo che da gennaio riproporremo l'Academy con un programma significativamente importante e probabilmente diverso da quello di quest'anno, ma andiamo a vedere adesso cosa è successo in borsa questa settimana. Il nostro bravo indice di riferimento è l'SP500 e vediamo che in effetti è capitato quello che avevamo immaginato, cioè che l'indice ha cominciato a ritracciare non appena sentito l'importanza di questa retta, questa trendline ribassista che avevamo iniziato a tracciare noi fin da marzo-aprile del 2022 e che, guarda caso, ha fatto sentire i suoi effetti proprio quando i prezzi dell'indice hanno iniziato a toccare questa trendline ribassista. Questo lo faccio notare soprattutto per quelli che dicono che l'analisi tecnica di fatto non serve. Ebbene, se facciamo un'analisi tecnica e la facciamo bene, vedete che abbiamo significativamente dei valori che ci aiutano a capire dove sta andando il mercato. E se non è un esempio questo, ditemi voi quale può essere un esempio. Avevamo individuato questa retta, questa trendline di resistenza a movimenti rialzisti fin da marzo e guardate cosa è successo ad agosto quando i prezzi hanno iniziato, hanno toccato la retta di resistenza. Hanno in effetti iniziato a ritracciare, esattamente come ci aspettavamo. E guardiamo un'altra cosa, l'ultima candela di ritracciamento è proprio quella di venerdì, ed è una candela brutta, una candela che ha fatto male, una candela del meno 3,37%, quindi vuol dire che il mercato in un solo giorno, vedete, ha perso tutto quello che aveva guadagnato nei dieci giorni precedenti. Che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che questo è un segnale importante, importante soprattutto per i ribassisti. Vi faccio vedere un'altra cosa, vi faccio vedere ancora l'indice della paura, sempre che riesca ad aprirlo. Eccolo qui, l'indice della paura che è tornato su un valore pari a paura e la timeline ci dice che sta ritracciando, vedete, per cui probabilmente c'è da attendersi che l'indice della paura possa continuare a scendere, e vi faccio notare che il Macmillan volume, vuol dire la differenza tra le azioni che salgono e le azioni che scendono, è ancora in discesa, vuol dire che evidentemente il mercato non ha trovato una sua base. In effetti su Finbiz vedete come le azioni che scendono rispetto alle azioni che salgono sono l'84%, quelle che hanno nuovi massimi sono solo il 20% rispetto a quelli che hanno nuovi minimi. Il mercato probabilmente deve ancora trovare la sua base di ripartenza, ma come al solito noi non è che dobbiamo preoccuparci più di tanto. Avevamo già detto settimana scorsa che ci aspettavamo un ritracciamento, io sono certo che chi era long ha fatto scattare i suoi bravi stop loss, quindi si è portato a casa una buona fetta di guadagni, vi ricordo che noi avevamo iniziato ad entrare nel mercato qui, proprio all'altezza di questo minimo, ed eravamo a fine giugno, per cui chi era long, chi era toro è sicuramente contento, perché è vero che sono scattati gli stop loss, ma stop loss sono scattati in guadagno, mentre invece chi è short a questo punto sta guadagnando e lo invito a modificare gli stop loss per garantirsi una uscita, eventualmente il mercato dovesse dargli torto, un'uscita con guadagno o a zero, cioè allo stesso prezzo dell'ingresso. Cosa potrebbe capitare? Intanto io come vedete vi ho costruito già un disegno con l'analisi di Fibonacci, che avevamo già visto anche l'altra volta, e guardate, il mercato è andato a stamparsi al 38,2 di questo ritracciamento che vi sto segnando adesso, quindi il ritracciamento è andato a stamparsi sul 38,2 del ritracciamento, proprio all'altezza, vedete, della nostra trendline fissa, che avevamo anche questo individuato a gennaio, e che abbiamo detto è il nostro spartiacque tra un movimento long e un movimento short del mercato. vi faccio notare un'altra cosa, la vedete io, è difficile da vedere, però potrebbe esserci potrebbe esserci forse un, ve lo disegno, un, dov'è? Eccolo qui, potrebbe esserci, non ne sono certo, dovremmo andare a vedere che cosa succede ancora col mercato, ma potremmo avere una sorta di, guardiamo insieme, non me lo fa più fare, perché ho sbagliato con la testa, abbiate pazienza, lo rifacciamo subito, così la testa la mettiamo qua su, eccola qua, questa invece è la spalla destra, e questo, eccolo qua, non si vede bene, perché? perché non ho saputo disegnarlo, abbiate pazienza, ci riprovo, allora, vediamo se riusciamo a disegnarlo così, spalla destra, testa, spalla sinistra, eccolo là, lo vedete anche voi come lo vedo io? Potrebbe essere un testa e spalle, spalla destra, scusate, spalla sinistra, spalla destra, testa, io vi ricordo che il testa e spalle è una figura di inversione, è una figura di inversione che ha la sua validità se e solo se si trova al top di un movimento a rialzo, in effetti qui siamo in un movimento a rialzo, siamo al top di questo movimento a rialzo e, anche se mal costruito, potrebbe essere questo un testa e spalle, se fosse un testa e spalle il ritracciamento non sarebbe finito, ma potrebbe, anzi, dovrebbe continuare, io vi ricordo che il testa e spalle è una delle figure più affidabili in analisi tecnica, lo faccio, l'ho costruito con molte riserve perché vedete che non si legge bene e questa, l'ultima candela, l'ultima candela, anche se è una candela estremamente ribassista, fa pensare, fa riflettere, quindi staremo a vedere, ho sbagliato a cancellare una retta, la rimettiamo subito al posto suo, che era qui, perfetto. Ora, cosa ci attendiamo per la prossima settimana? Ma, guardate, visto che i long, quindi i tori, sono fuori dal mercato e gli orsi, se ci sono, sono entrati al mercato più o meno in questo momento, io direi ai tori di restare ad osservare cosa succede e agli orsi, e agli orsi di aggiornare i loro stop loss. Vedremo settimana ventura, settimana ventura il mercato ci dirà dove vuole andare, è probabile che possa esserci un piccolo rimbalzo e poi la continuazione del movimento a ribasso. E se così fosse il testa e spalle, il testa e spalle potrebbe arrivare come obiettivo. Lo costruiamo, vi faccio vedere dove potrebbe essere l'obiettivo, che potrebbe essere più o meno, vediamo subito, lo porto giù, all'altezza di... eccolo qua, l'obiettivo potrebbe essere 3897, quindi un 3009 di SP500, che 3.900 di SP500, vogliamo vedere dove va a finire, 3.900 di SP500 è più o meno, eccolo qua, guardate, il 61,8 del ritracciamento. Avremo ragione? Abbiamo ragione, ce lo potrà dire solo il mercato. Intanto faccio i complimenti a coloro che mi hanno seguito e quindi hanno portato a casa qualche guadagno, visto che sicuramente sono scattati gli stop per i long e invece agli orsi, vi ricordo per chi è short, ricordo di aggiornare sicuramente i loro stop loss per garantirsi il guadagno che finora, sono certo, hanno fatto. Grazie a tutti e buon trading, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie a tutti.